Nel quadro dei provvedimenti adottati dalla campagna nazionale contro la delinquenza, le impronte digitali sono a tutt'oggi il mezzo più sicuro di identificazione personale. Perciò tutta la popolazione di questa città della California è stata invitata a far registrare le proprie dalla polizia, che potrà così formare un completo casellario utile per una rapida identificazione di ogni eventuale criminale. I'm a flyer!